Il pagellone con Marcel Buechel, classe 91 centrocampista di proprietà della Juventus. Valore di mercato 300.000 euro in crescita visto il campionato propizio al rosso-nero. Si tratta di un giocatore atipico per qualità, nel senso che è un regista che ha anche gamba e dunque interpreta bene le due fasi. Il suo lavoro risulta utilissimo nell'economia della squadra ed è abile sia nella gestione della palla che nel far ripartire la manovra. Ha un calcio pulito e un buon sinistro, geometrico, ha spiccate qualità tattiche in fase di non possesso, forte nel contrasto, spicca in fase di interdizione recuperando molti palloni con grinta, facendo valere il suo dinamismo recupera palla e fa ripartire l'azione, aggressivo, porta sempre pressione agli avversari. Buon giocatore in netta crescita. Voto 8.